Proprio lo scorso 14 maggio c'è stato un tavolo in prefettura che ha fatto richiesta al Viminale di rinforzi proprio in vista dell'estate perché si prospetta nel Salento il boom di turisti. Lo scorso anno questi rinforzi, queste unità, polizia, carabinieri, finanzieri giunsero in estate inoltrata verso agosto. Quest'anno si potrà avere questo aiuto prima che inizi questo boom per cercare di tutelare tutto il nostro Salento sia turisti che anche gli stessi cittadini, tutti i nostri salentini? Lo sforzo che si sta facendo è proprio questo, quello di rendere ancora più presente e più capillare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia soprattutto in momenti importanti per la vita economica delle comunità e in quest'area nel Salento il turismo rappresenta una componente molto importante dell'economia locale. Noi stiamo lavorando per rendere strutturali e permanenti quelle misure e ci auguriamo di poterlo fare con le risorse che abbiamo a disposizione.